Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno, giovedì 3 marzo e si continua a navigare nell'incertezza perché Konami sono molte settimane che non ci dà alcun tipo di aggiornamento, anzi sono mesi su questo benedetto update 1.0, l'unica cosa che ha fatto quando è partita la campagna Preseason Vol. 3 scusarsi con gli utenti per il grande ritardo ma non ha parlato di quando questo benedetto update 1.0 che porterà quanto meno Creative Teams sarà rilasciato, ha detto che il team sta lavorando duramente eccetera eccetera ma noi siamo sempre nell'incertezza, poi considerando gli eventi drammatici che riguardano il team di UFL per noi videogiocatori appassionati in particolare di videogiochi di calcio sicuramente non è un bellissimo momento però ovviamente le tragedie sono altre appunto quello che sta accadendo nell'est Europa è una questione ben differente dal problema di non avere un gioco di calcio di un certo spessore a livello di modalità e di gameplay. Comunque oggi torna l'European Club Championship, non mi chiedete perché a così poca distanza dalla precedente campagna, comunque questo è quanto. Andiamo un po' a vedere, i dettagli sono i soliti, ci sono le squadre che giocano o hanno giocato la Champions League, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Barcellona, Real Madrid, PSG, Inter, Juve, Milan, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Manchester City, Lille, Atletic, Atalanta, Sevilla e Villarreal. Diciamo che sono le solite, mi pare la settimana scorsa che avevamo fatto questa campagna. Molto semplice come campagna, sfida 1, gol segnati al meno 1, sfida 2, gol segnati al meno 4, sfida 3, gol segnati al meno 7 e incredibilmente scoop, breaking news, fermate le rotative, i premi sono 10.000 GP per la sfida 1, 10.000 GP per la sfida 2, 10.000 GP per la sfida 3. Ok, vabbè, ogni commento è superfluo, l'unica cosa che posso dirvi è che purtroppo questa campagna non la riuscirò a giocare perché ho degli impegni offline e nei prossimi giorni vi proporrò dei video registrati già nei giorni scorsi su Grid Legends e Horizon Forbidden West, magari se oggi proprio all'ultimo riesco, faccio una partitina almeno per provare a fare la sfida 1, ma non lo so, non è detto, non è detto. Volevo soltanto mostrarvi in breve le mie statistiche, ho fatto 29 match perché ecco, questi giorni gli ho dato dentro per arrivare ai fallifici 40 partite entro metà mese e avere una leggenda in regalo quando questo Creative Teams si materializzerà, 19 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte. Sono abbastanza soddisfatto, magari fossi stato a 20 vittorie e 7 sconfitte anche meglio, però questo è quanto. Ne abbiamo parlato a lungo delle indiscrezioni di Galvani che parlano di un rinvio alla seconda metà del 2022 di questo aggiornamento, da quel momento non ci sono state né conferme né smentite da parte di altri influencer, da parte di altri fonti, men che mai da fonti ufficiali. Quindi ragazzi, purtroppo al momento possiamo soltanto aspettare e sperare e io vi auguro una buona campagna European Club Championship, voi che potete farla magari in maniera più corposa rispetto a me. Vi do appuntamento oggi pomeriggio con il TG Tech, c'è una copia di Football Manager 2022 in regalo, tutti i dettagli ritrovate su Italia Top Games o sul video giocaregratis.it. Io vi ringrazio per l'attenzione, se ancora non vi siete iscritti al canale fatelo subito, se vi siete iscritti al canale e magari volete supportare i video di Italia Top Games potete o abbonarvi al canale o fare acquisti tramite l'affiliazione di Amazon, trovate il link nella descrizione del video. A presto e buon tutto, ciao!